Sono iniziati i lavori per la riqualificazione della storica sala del Cinema Astra in Viale Giulio Cesare a Como. La parte più consistente degli interventi è prevista tra settembre e ottobre mentre l'apertura è in programma per la fine del 2021. Dopo il successo della campagna Salviamo il Cinema Astra che si era conclusa con la raccolta record di 85.000 euro alla fine del mese di gennaio scorso, una raccolta fondi che, lo ricordiamo, aveva visto la partecipazione di oltre 850 donatori, sono ufficialmente partite le operazioni con il trasloco delle sedie e l'inizio della rimozione della mochette. Opere necessarie in vista della completa sostituzione della pavimentazione e dell'impianto elettrico che, insieme con l'adeguamento dell'impianto di areazione, rappresentano gli interventi più importanti previsti dal progetto di messa a norma concordato con i vigili del fuoco. Un'altra novità che riguarda il cinema è la costituzione dell'associazione Amici dell'Astra, a cui potranno aderire tutte le persone che vogliono contribuire al futuro della sala attraverso idee, volontariato e sostegno economico. L'associazione sarà in dialogo con la società e la cooperativa che si faranno carico della gestione vera e propria del cinema che è di proprietà della parrocchia di San Bartolomeo. Nel mese di settembre verrà lanciata ufficialmente la campagna di tesseramento.